Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di MagicBadge Oggi andiamo subito a dormire, siamo arrivati e già dormiamo perché devo portare una mod oggi carina, una fabbrica per vedere di fare anche il diesel, andiamo a fare anche il diesel, andiamo a fare il benzina, penso che faccio il benzina e qua c'è ancora la neve, ah ok, perché se no c'è ancora la neve, è una buona pusgoletta dove mettiamo questa fabbrica? dove la mettiamo questa fabbrica? perché è veramente è veramente molto grande è veramente è ancora con fatica a caricarla, va, vai a portare così è una malattia, eh sicuramente non qua sicuramente non qua ho messo una fabbrica di diesel qui vado a vedere finish finish o vado a vedere di metterla qua su questo posto qua c'è il giardino allora la casa la casa la casa qui? no il giardino ho vado a vedere ho perso che age che è la base su di qui? perché lo fa? fa su car? uè, effettivamente cosa è la base? è qua, ok perché non ci sta non ci sta veramente è veramente grande è veramente grande modifica il mondo però la metto qui non ci sono ma non ci sono ma non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono non ci sta non ci sono la storia Grazie a tutti. 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 Bye. Grazie a tutti. Andiamo a fare uno o due giri con la colsa. Andiamo a comprare la colsa che facciamo prima. Grazie a tutti. Tutti 6.000 euro. Comunque se è ricavato. Comunque se è ricavato... Andiamo a fare uno o due giri con la colsa. Andiamo a fare uno o due giri con la colsa. Andiamo a fare uno o due giri con la colsa. Ok. E' un u due giri con la colsa. E' un u due giri con la colsa. E' un u due giri con la colsa. Grazie. 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 Ok. Ecco la produzione. Ecco la produzione. Grazie. 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 Vendere, vendere come sempre la bova. Grazie. 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 Vabbè andiamo a vedere questa roba qui. No perché è roba legata? Ma che cazzo? Cazzo. Siamo in cal 사, in cal, in cal. andiamo a vedere questa roba. Andiamo da scara in cal, in cal. Grazie. 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 Guarda quanto tessuto ha fatto. Grazie. 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 Vediamo il latte. No i yogurt e penno e pano di treno. appreciative Qua c'è ve lo latte e Search. Siamo ancora, però… Ce t'è ancora un pezzo. Buono andiamo a prendere il latte taxes va che lo zucchero che abbia già questo qui un zucchero non ne ho un zucchero ne ho poco allora abbiamo detto che ok andiamo a prendere il lato va la mucca maronna che non vi siete sforzati 5.000 litri di latte che non vi siete sforzati qui il lato c'è qui il lato c'è allora che non c'è il latte fabbrica di yogurt non c'è quello che può dare non è tanto però è quello che può dare ok che lato abbiamo messo cosa è quello che è allora adesso io dovevo far passare proprio di far passare una giornata quindi anche vado a comprare la barbabietta da zucchero vado a comprare perché la roba lì non la produco perché troppo impassimento produrla guarda che compro soldi li faccio lo stesso dalle vendite quindi non posso permettere di comprarla la barbabietta da zucchero ne volevo fare tanta la barbabietta da zucchero ne chiede un prego un prego 5.000 con una spesa ci siamo sostenibile i ho 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 God ho ho Wow Anche armi allora di cominciare la prossima volta fare con un po di farina ecco ok facciamo i dindini qua con le vendite ho fatto il nome pieno ma comunque ne ho fatto mettere a posto la farina mi farà il foraggio questo basta poca perché comunque no fai il pilota qui questo sono 20.000 euro così per ridere lo vedete sta ordinando ma adesso andiamo a fare il pilota poi guardiamo adesso qua ok facciamo la farina che dovrebbe fare adesso andiamo a fare tutto quasi tutto a posto un po' di foraggio alle mucche un po' di formento alle mucche un po' di forno un po' di formento alle mucche molto a posto un po' di forno ciao a tutti le persone ciao ciao ciao